Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, ben trovata al consiglio d'appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale oggi è dedicata al rientro nella sua abitazione di Piazza Armerina del tecnico della Bonatti, Filippo Calcagno. Uno dei quattro tecnici italiani tenuti in ostaggio in Libia per quasi otto mesi, Calcagno prima di prendere il volo che da Fiumicino lo ha portato a Catania, era stato ascoltato assieme all'altro collega Gino Pollicardo per quasi sei ore dai magistrati della Procura della Repubblica di Roma. Vediamo. E' rientrato ieri sera nella sua abitazione di Piazza Armerina il tecnico della Bonatti, Filippo Calcagno, uno dei quattro tecnici italiani tenuto in ostaggio in Libia per quasi otto mesi. Ad accoglierlo palloncini colorati e un lenzuolo con la scritta bentornato e manifesti sui muri con il tricolore e lo stemma della città. Piazza Armerina è felice di riabbracciarti. Calcagno prima di prendere il volo che da Fiumicino lo ha portato a Catania era stato ascoltato assieme all'altro collega Gino Pollicardo per quasi sei ore dai magistrati della Procura di Roma che indagano sull'episodio. I due hanno raccontato di essersi liberati da soli ed aver subito violenze psicologiche e fisiche. Hanno detto inoltre di essere stati picchiati con calce e pugni e in alcuni casi sarebbero stati colpiti anche con il manico del fucile e di essere stati lasciati per giorni senza cibo. Agli inquirenti romani hanno raccontato che mercoledì i carcerieri hanno prelevato Salvatore Failla e Fausto Piano forse per effettuare un trasferimento in una nuova prigione. Sono riusciti a fuggire dopo aver sfondato la porta del luogo dove erano segregati. Ai magistrati hanno aggiunto che non è stato l'Isis ad averli fatti i prigionieri ma probabilmente un gruppo islamista. Due i carcerieri che si alternavano. Del gruppo faceva parte anche una donna. Sole ieri dopo essere giunti a Roma hanno saputo della tragica fine degli altri due loro colleghi. A Capoterra in Sardegna e a Carlentini in Sicilia si attendono invece le salme delle due vittime non ancora rientrate in Italia né appare chiaro quando questa avverrà. L'autopsia sarà centrale per stabilire le cause della morte. Quello che per ora filtra da fonti qualificate che non troverebbero riscontro né le ricostruzioni secondo cui i due sarebbero stati usati come scudi umani né quelle di un colpo alla nuca. Un 17enne gelese ha rischiato di morire dissanguato per un morso datogli da un cavallo che per poco non gli staccava un braccio. L'episodio è accaduto ieri mattina nelle campagne di Butera. Il giovane stava cavalcando quando all'improvviso l'animale si è messo a scalciare per una spina presa in una zampa. Il ragazzo è sceso e ha cercato di levargliela ma non ha considerato la reazione del cavallo che in preda al dolore lo ha preso a morsi. È stato uno zio del giovane che si trovava nelle vicinanze a prestargli i primi soccorsi e a bloccare un'automobile in transito con la quale è stato possibile raggiungere l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Il morso del cavallo potrebbe aver creato un danno permanente al ragazzo perché pare che gli abbia staccato una parte dei muscoli del braccio. Tentato furto la scorsa notte, danni del negozio di abbigliamento Martellino di Corso Vittorio Emanuele a Gela. I ladri sono scappati alla vista dei metronotte. In tante carabinieri nel corso di un'attività hanno segnalato 10 giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. Vediamo. Providenziale intervento dei metronotte della società della sicurezza di Gela che sono riusciti a mandare in fuga i malviventi evitando un furto ingente. E' quanto accaduto la scorsa notte intorno alle 3.50 in Corso Vittorio Emanuele nei pressi di Piazza Martiri della Libertà. I gnoti hanno preso di mira il negozio di abbigliamento Martellino. Utilizzando una grossa mazza hanno tentato di sfondare la vetrata dell'ingresso principale ma alla vista dei metronotte si sono dati alla fuga. Sul posto si sono recati i carabinieri del locale reparto territoriale. Requisite le immagini delle telecamere collocate nella zona. E sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della stazione nel corso di alcuni controlli alla circolazione stradale finalizzati al contrasto del fenomeno delle stragi del sabato sera hanno segnalato alla prefettura di Calzani-Setta 10 giovani per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare i militari dell'arma impegnati nei controlli presso la stazione ferroviaria, la zona di Piazza Sant'Aquestino, la via Rossini e il Corso hanno sorpreso 10 gialesi di cui 4 minorenni in possesso di droga. I controlli sono scattati venerdì pomeriggio e si sono protratti fino alla notte di sabato. In Piazza Sant'Aquestino i militari hanno controllato al suo interno se i cittadini e gli esercizi pubblici presenti rispettassero quelle che sono le prescrizioni previste dalle leggi nazionali e dalle ordinanze comunali. Controllate 207 persone, perquisiti 32 soggetti, fermati 114 tra autoveicoli e motoveicoli ed elevate 27 contravenzioni al codice della strada. In particolare sono stati sequestrati 8 tra autovetture e motocicli, sia per mancata copertura assicurativa sia per il mancato uso del casco protettivo. Il controllo del territorio, anche in questo caso, sottolinea una nota dei carabinieri, ha dimostrato la sua efficacia nel contrasto all'illegalità considerato che si è riusciti ad intervenire ristabilendo l'ordine e la sicurezza pubblica in delle zone della città come il centro storico e la zona della stazione ferroviaria colpite dal degrado che duramente infierisce su quei cittadini che serenamente vorrebbero godersi le svariate bellezze offerte dalla città. Poteva essere oggi una data importante per i cittadini, gli artigiani, le imprese, i professionisti di Gela e dei comuni del comprensorio. Poteva, perché oggi era convocata la Camera di Commercio presso il comune di Gela per risolvere le problematiche ampiamente denunciate dalla CGL, ma i vertici della Camera di Commercio hanno comunicato l'impossibilità a partecipare alla riunione. La conferenza dei capigruppo nel ribadire che è interesse primario della città avere dei servizi efficienti nella considerazione che un'eventuale ulteriore assenza non sia più giustificabile, ha riconvocato per domani alle 12.30 rappresentanti della Camera di Commercio. Oggi erano presenti i consiglieri Gallo, Siracusa, Cascino, Malluzzo, Giudice, Amato, Cirignotte, gli assessori Morello e Di Francesco. È stata scelta simbolicamente la data della giornata delle donne per attivare al comune di Gela lo sportello Anghelas a supporto delle donne e dei minori vittime di violenza. Il nastro inaugurale sarà tagliato dal sindaco Domenico Messinese e dall'assessore comunale ai servizi sociali Licia Abela domani mattina alle 11 nei locali comunali al terzo piano di Viale Mediterraneo. Il progetto nasce per fornire una risposta adeguata e integrata a quei servizi locali e destinatari degli interventi, un adeguato supporto informativo ed un corretto accompagnamento guidato ai servizi operanti sul territorio. Unitamente alle forze dell'ordine fornirà riscontri alle donne in situazione di rischio immediato per la propria incolumità ed esiterà le richieste di cittadini che desiderano informazioni sui servizi, parenti o amici di vittime che desiderano indicazioni o suggerimenti, operatori dei servizi che necessitano di indicazioni sui centri e servizi presenti sul territorio. Altri servizi previsti sono l'accoglienza telefonica e il primo orientamento sugli strumenti di tutela contenuti nelle normative che si riferiscono alla violenza contro le donne, la predisposizione e l'immediata attivazione di uno scenario di protezione per l'emergenza, effettuando una prima valutazione del rischio, l'accompagnamento guidato verso i servizi del territorio e l'attivazione delle consulenze idonee al supporto del percorso progettuale, legale, psicologico, orientamento al lavoro, salute e figli, sia a denti pubblici che privati. Sono arrivati anche Daniscemi e da Piazza Merina per affrontare la vicenda Liberi Consorzi, appuntamento ieri nei locali di Villa Peretti a Gela. L'iniziativa è stata promossa dal nuovo PSI. Si è parlato della legge regionale numero 15 del 4 agosto scorso su disposizioni in materia di Liberi Consorzi e città metropolitane. Lo scopo della tavola rotonda è stato quello di promuovere la discussione tra i protagonisti, gli esperti, gli amministratori ed i cittadini su un argomento molto sentito. Il territorio di Gela nel contesto dell'area vasta della città metropolitana Etnea. Dopo il referendum che ha deciso il passaggio delle tre realtà, Gela, Niscemi e Piazza Merina a Catania, non sono state ancora stabilite le competenze, soprattutto in ambito sanitario ed amministrativo. Gela vuole che il volere dei cittadini venga rispettato. Il fatto che le istituzioni siano rispettose di quello che hanno proprio loro portato avanti è una cosa gravissima. Noi riteniamo che non si può giocare sulla vita dei cittadini perché questa situazione di limbo non consente all'amministrazione di prendere dei cammini e delle decisioni. Il fatto di non sapere di essere ancora ad oggi sulla città metropolitana in modo ufficiale e di rimanere legati in modo forzoso su Caltanissetta sinceramente provoca dei problemi e non riesce ad avviare quel cammino che la nostra collettività ha bisogno. Ci sono troppi problemi e non si può scherzare con la vita dei cittadini. Vorremmo cominciare a discutere di soluzioni serie e concrete per problemi riguardanti agricoltura, i beni culturali, la sanità, tutte quelle che sono le attività legate al mare e tutto quello che è il bagaglio culturale ed economico che Gela porta all'interno della nuova area metropolitana di Catania. Noi siamo pronti a confrontarci su quelle che sono le nostre idee, su quelli che sono i nostri progetti concreti. Il comprensorio sud sarebbe quello rappresentato da Piazza Armerina, Gela, Niscemi, dove il polo agroalimentare, il polo turistico e culturale e il polo industriale vengono praticamente a confluire e a creare le basi per un elemento portante soprattutto. Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa. Se Niscemi ha da versare tributi, da dare contributo economico, sociale, siamo pronti. Però rivediamo un po' tutto, ripartiamo con il piede giusto per non creare una nuova struttura che alla fine ci riporta a dividerci fra qualche anno. È prevista per domani alle 10 l'apertura della porta santa della cappella dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Saranno presenti il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana, il direttore generale dell'ASP, il direttore sanitario dell'ospedale e il sindaco, tutto il personale medico e paramedico. Il rito prevede la lettura della bolla papale, l'ingresso del pronto soccorso per poi muoversi in processione verso la cappella del Vittorio Emanuele. Alla fine della cerimonia il vescovo presiderà la solenne celebrazione eucaristica con la benedizione ai malati. Domani, in occasione della festa della donna, l'ADAS apre eccezionalmente le porte dell'unità di raccolta a tutte le donne che vorranno festeggiare l'evento con un gesto speciale, quale la donazione del sangue. I medici e gli infermieri diretti dal responsabile della struttura sanitaria Antonio Moscato saranno a disposizione di tutte le donne che si recheranno a donare. Un simpatico gadget realizzato per l'occasione sarà donato a tutte le donne che faranno visita al centro di raccolta di Via degli Appennini numero 5. Adesso la nostra consueta rubrica in breve. Vediamo. Sono pronte e possono essere ritirate all'ufficio di segretariato sociale del Comune di Gela le tessere di libera circolazione AST per l'anno 2016. Lo ha reso noto l'assessore comunale Servizi Sociali, Licia Abela. Le tessere danno diritto al Servizio di Trasporto Urbano ed Extraurbano agli anziani residenti a Gela che le avevano richieste dopo l'avviso pubblico delle 7 luglio scorso. Gli uffici di Viale Mediterraneo sono aperti al pubblico da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30. La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona. Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente. Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione, al dialogo interculturale. Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica. Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita, in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno. I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente. I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo. Sono previsti premi in denaro. È stato prorogato al 15 aprile prossimo al fine di poter usufruire della fioritura primaverile della flora dunale e il termine di consegna dei lavori relativi al concorso fotografico Le Dune Gelesi, promosso dalla Soroptimist di Gela e rivolto agli alunni delle scuole superiori con l'intento di valorizzare le bellezze e le peculiarità del paesaggio gelese attraverso le immagini. Le foto inedite devono essere stampate in formato 18x24 e salvate su supporto CD in formato JPEG con dimensioni minime di 3 MB e massime di 10 MB. Parla della Sicilia dal punto di vista femminile il film documentario Cose di donne che sarà proiettato al Cineteatro Antidoto il 18 marzo prossimo alle 21 con ingresso gratuito. Se storie di donne che hanno in comune l'essere nata in una terra fimmina per eccellenza con i suoi miti le sue leggende che si sono avvicendate e sovrapposte nel tempo. Il docufilm è di Lorenzo Daniele che ha vinto il premio Archeoblogger alla 26esima Rassegna Internazionale del Cinema Archeologico di Rovereto e tra le donne protagoniste c'è l'archeologa gelese Angela Catania presidente dell'Archeoclub Giovani. Il Soroptimist Club, la Fidapa e l'Innerwill domani in occasione della Giornata Internazionale della Donna organizzano una serata al Cineteatro Antidoto in cui si svolgerà la rappresentazione Stanotte Dormo Tranquilla di Giuliana Fraglica. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza. Continuano gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 13 marzo alle 19 al Palazzo Pignatelli finì la cello 2 con Alfredo Borzi al violoncello e Tania Cardillo al pianoforte. In conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con 10 domande 10. Ospite del nostro direttore Giuseppe Donchia sarà l'attrice teatrale e cinematografica Maria Giannone. Le repliche sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Ancora una volta Gela ha risposto alla grande attraverso una partecipazione straordinaria di tanta gente coinvolte intere famiglie che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza ad Admo acquistando la colomba pasquale che ogni anno accompagna l'Associazione Gelese in prossimità della festa della Pasqua. Oltre 150 le colombe che a fine giornata sono state vendute dai volontari. ogni anno sono circa 1.500 pazienti in attesa di trapianto. La possibilità che questi ultimi possano riappropriarsi della propria vita è legata alla volontà di persone generose che attraverso la loro adesione ad Admo manifestano il desiderio di donare il proprio midollo osseo. Per diventare donatori occorre avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere in buona salute ed essere fortemente motivati a compiere un piccolo gesto ma di grande importanza. Adesso parliamo di calcio. In eccellenza il Gela rifila 6 gol. La Libertas allunga in vetta la classifica. Adesso i punti di vantaggio sulla San Cataldese sono 5. Vediamo. Punteggio tennistico per la capolista del Girone A del torneo di eccellenza sul fanalino di coda Libertas. 6 a 0 il risultato finale che proietta il Gela. Più 5 punti dalla San Cataldese. 6 sul Dattilo Noir. Una gara senza storia, quella andata in scena ieri pomeriggio sul sintetico dello Stadio Presti. A Grigentini praticamente con la testa già in promozione senza più nulla da dire a questo campionato. Per il Gela una giornata di festa non solo per la roboante vittoria agguantata davanti al pubblico di casa ma anche per la gioia di aver messo in cascina punti pesanti sulle dirette inseguitrici. La prima di due impegni consecutivi al Presti vinti in maniera prepotente con i Biancazzurri che adesso cercheranno il bis domenica prossima sempre in casa contro l'atletico Campofranco. Insomma, Bonafini e compagni assaporano la 6D ma guai a farglielo notare. Con 5 gare alla fine del torneo ancora i giochi non sono fatti ma l'acqualina in bocca sembra già esserci. Nella gara vista ieri pomeriggio c'è stata in sostanza una sola squadra in campo. Gli ospiti in pratica non hanno mai impenserito l'11 Biancazzurro con il portiere Pandolfo uscito anzitempo dal campo per dare spazio al secondo portiere Donato Camiolo anche egli inoperoso. Già dopo 4 giri di orologio padrone di casa pericolosi con il giovane Tony Scerra che tutto solo davanti al portiere sbaglia calciando sull'estremo difensore agrigentino. Il gol è nell'aria e arriva al minuto undicesimo grazie alla bella rovesciata in aria di Nassi che la mette dentro sbloccando in acrobazia il risultato. Si gioca in pratica ad una porta con gli ospiti incapaci di reagire. Sul finire del primo tempo arriva il raddoppio dei padroni di casa grazie alla zampata vincente di Mincica. La ripresa si apre subito con la rete del 3-0 firmata da Scerra. La quarta marcatura arriva dopo 5 minuti con il difensore goleador Fabio Campanaro. Gela che non appare esazio e cerca sempre la via del gol. La quinta rete arriva ancora una volta con Nassi che raccoglie l'invito di uno strabitoso Mincica che lascia sul posto un paio di avversari servendo poi la palla del 5-0 al compagno di squadra. Con gli ospiti oramai alle corde e con la bandiera bianca alzata arriva anche la rete del definitivo 6-0 dei padroni di casa. A metterla dentro è ancora una volta l'Anderserra bravo a farsi trovare pronto in area di rigore. Insomma un Gela che dopo la bella vittoria in casa del Mazzara mette in cacina altri tre punti preziosi per la vittoria finale del campionato. Adesso come già detto i biancazzurri saranno chiamati ad un altro impegno casalingo contro l'atletico Campofranco calvanizzato dalla bella vittoria in casa contro il Mazzara. Una gara sicuramente più impegnativa per la squadra del tecnico Totò Brucculeri. A fine partita Flavio Centamore ha intervistato i protagonisti della Goliada. Li sentiamo. Abbiamo messo un dassello importante per la vittoria del campionato ma ancora ce n'è strada da fare. Che strada c'è da fare? Il Gela deve continuare così come sempre fatto come la trasferta vincente a Mazzara? Sì, non possiamo permetterci di abbassare la guardia dobbiamo cercare di vingerle tutte fino a quando la matematica ci dirà che siamo in Serie D. Volevi segnare e oggi ti sei riuscito? Eh sì, volevo dedicare la vittoria a mia moglie è andata bene, dai. Capitano, era importante vincere oggi la prima di due partite in casa la vittoria c'è stata una bella vittoria netta vittoria. Sì, sicuramente queste partite non sono facili perché se non vengono approcciate nel modo giusto vengono difficili. Noi sin dal primo minuto abbiamo dimostrato la volontà di portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti e l'abbiamo fatto diventare facile. Per noi ogni partita è una finale e i punti sono importanti e pesanti. Calcoli noi non ne possiamo fare. Noi dobbiamo pensare come abbiamo sempre fatto partita dopo partita. Una doppietta 6-0 contro Libertas 5 punti di vantaggio sul Dattilo Novarra una giornata perfetta questa per il gelo. Sì una giornata ideale che speravamo prima della partita che poi si è realizzata alla fine. Adesso non so se sono 5-6 punti forse dal Dattilo e 5 dalla San Cataldese. Sì siamo contenti siamo contenti perché facciamo tanti sacrifici durante la settimana e oggi effettivamente è stata la giornata ideale. Questa squadra ormai ha preso un livello di concentrazione di determinazione che sta portando avanti già da tanto tempo e oggi non abbiamo sbagliato nulla ormai mancano poche partite non ci possiamo permettere di sbagliare niente se vogliamo centrare un obiettivo importante. Parlaci invece del gran gol in rovesciata che ha aperto le barcature. È stato un bel gol è stato bello per l'esecuzione soprattutto perché ha sbloccato la gara e sono felice. Una gara sul velluto la sua squadra che porta a casa 3 punti preziosi nella prima di due gare in casa. Sì diciamo sul velluto dopo aver sbloccato il risultato le partite iniziano solo 0-0 per cui sono sempre due partite difficili da prendere con le mollette e da interpretare con la giusta concentrazione. Noi l'abbiamo fatto il primo tempo poi magari dopo essere andati in vantaggio ci siamo un po' cullati del vantaggio poi abbiamo diciamo fatto il 2-0 per cui abbiamo diciamo così tra virgolette chiuso il primo tempo. Poi al secondo tempo siamo stati devastanti perché abbiamo trovato il terzo il quarto il quinto e ce ne potevano essere di più però è chiaro che non abbiamo giocato abbiamo giocato bene cercando di trovare gli giusti equilibri fra i reparti la squadra sinceramente anche se abbiamo giocato con un avversario diciamo così di carattura inferiore però la squadra si può sapere. E nel campionato di promozione debutta Mauro per Antonello Capodicasa sulla panchina dell'Atletico Gele Giallorossi infatti sono stati sconfitti per 2-1 a Comiso in vantaggio con Ascia i gelesi sono stati ripresi e superati da Rimaudo per i gelesi si tratta della terza sconfitta consecutiva che riduce le speranze di mantenere i playoff c'è l'informazione cinematografica e fuoco a mare il film in programmazione al cineteatrantidoto di Macchitella a Gela sono 3 gli orari di rotazione della pellicola 17.30 19.30 21.30 il 9 marzo alle 21.15 al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito della stagione di Cabaret è previsto lo spettacolo Tram Tram di Lasciate Libero lo Scarrozzo per informazioni 0933 911 892 oppure 345 58 80 580 con lo spettacolo è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo che servizi notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione arrivederci a tutti e buon inizio settimana grazie a tutti grazie a tutti